Il grido di allarme parte dal delegato CISL, FP del Presidio ospedaliero di Sapri, Gerardo Paradiso, che da una analisi della situazione attuale prospetta che il reparto non ha futuro e che la chiusura verrà per consunzione. Senza un intervento deciso e decisivo da parte della direzione strategica dell'ASL Salerno, afferma Paradiso, della CISL, attraverso un reclutamento straordinario di cardiologi, la speranza che nel nosocomio possano continuare le attività di cardiologia sono sempre meno. Tre dirigenti medici non riescono a garantire le attività sulle 24 ore per sette giorni settimanali. Di notte e nei festivi sono solo due infermieri a presidiare la struttura con rianimatore e cardiologo in reperibilità, una organizzazione eccezionale ma che non può diventare strutturale con rischio di grave ridimensionamento delle attività. Si intervenga con rapidità prima che sia troppo tardi.